Sono stati depositati da parte dei privati i documenti del masterplan, i giorni sono 40 per poter decidere, il sindaco cosa risponde? Il comune ha 40 giorni per esaminare il masterplan, se risponde agli accordi che abbiamo fatto il 17 novembre dinanzi al Presidente del Tarre di Catania, noi emaneremo tutte le dovute connessioni, le autorizzazioni, si farà la conversione, quindi questa è un'ulteriore tappa seria di un lavoro che procede da due anni e mezzo a tre anni della mia amministrazione e che se loro ci dicono un architetto che pronto lo vanno a pagare loro, un progettista di fama internazionale, noi diamo l'assenso, abbiamo già dato l'assenso a Fuxas, non è che ci innamoriamo di questo o di quel nome, l'importante è che il progetto ci viene, sabato mattina lo devono vedere prima i tecnici dell'assessato all'opanista e dopodiché spero in qualche settimana ve lo illustrerò.